Un momento sigla Come ho già detto nelle mie precedenti puntate, questa è la sigla di testa della nostra attuale trasmissione. Amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata della mia trasmissione Muto come un pesce, tanto per infrescarvi la memoria, la mia trasmissione intitolata così per associazione di idee a quella sop'opera spagnola sul canale 5 da 5 anni e dall'estate scorsa su Rete4. Non metto sponsor per evitare che succedano bordelli. Amici e amiche, in questa nuova puntata numero 430. In tutto vorrei cantare, ricantare un brano di cui l'ho già esibito più volte. Non mi ricordo bene quante e oggi, se vi fa piacere, vorrei ricantare uno dei miei brani personali. Consigli per gli acquisti prima. No, 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 no. Un mio carissimo amico che sa Milano, quasi tutti i giorni litigare con la nonna. La nonna lo fa arrabbiare, la nonna lo tempesta di domande e tutto ciò mi fa pensare. Le zampe dell'architetto e dell'avvocato sono grosse grandi e quando le vedo mi verrebbe voglia di toccare. Io tocco quelle zampe, certo per giocare e divertirmi e anche nei pomeriggi. la nonna di quel mio carissimo amico fa arrabbiare spesso tutti i suoi nipoti. Qualche volta cosa? Li vedo li vedo li tirare e quando li vedo li tirare mi diverto molto e subito mi fa ricordare. Le zampe dell'architetto e dell'avvocato sono grandi e grosse e quando le vedo mi viene voglia di toccare. Io tocco quelle zampe, certo per giocare e divertirmi e anche vedendo un corrente se sbagliare nel gioco finale di avanti un altro. non 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 i E anche nei pomeriggi. Le zampe dell'avvocato, le zampe dell'architetto, quelle dell'architetto sono, sono grosse. L'architetto e l'avvocato si incontrano a Cedraro. E nel concludere questa mia puntata dico che cantando questa canzone ho fatto parafrasi. Bene, alla prossima ed un bacione.